L'Istituto Superiore per la Formazione, Adriano Livetti, ha anche quest'anno consegnato le borse di studio per lo sviluppo, la ricerca, soprattutto in economia. Tanti giovani e tante speranze, soprattutto per il futuro, uno sviluppo diverso contro la crisi. Presidente Pietro Marcolini, ci sono molte novità per questo istituto di studio Adriano Livetti. Sì, rispetto alle attività più conosciute dell'Istituto, oramai da qualche anno, insieme alla Fondazione Marche, l'Istituto partecipa alla formazione di manager culturali, di imprese culturali e creative. Quest'anno verranno distribuite delle borse di studio per frequentanti di otto paesi dell'area Adriatico-Ionica che stanno progettando la realizzazione di imprese culturali e creative. Questa sera ci saranno delle presentazioni dei singoli progetti e verranno assegnate appunto le borse di studio ai più meritevoli. È una linea vagheggiata qualche anno fa che mi pare stia concretizzando la sua realizzazione. Finalmente si cominciano a vedere progetti organizzati economicamente in maniera ineccepibile, non soltanto dei sogni o dei desideri. Ecco, questa idea del traiono culturale comincia a radicarsi concretamente in un'organizzazione aziendale di impresa. Ecco, c'è bisogno di internazionalizzazione e di innovazione, per questo i giovani forse hanno una marcia in più. Assolutamente, il corso di cui stiamo parlando viene svolto integralmente in lingua inglese, anche perché ci sono paesi di nazionalità diverse con tante lingue, la lingua del lavoro è l'inglese, la proiezione internazionale è fondamentale e io penso costituisca un livello aggiuntivo, a volte come di preparazione, a volte invece di traino, anche per relazioni commerciali a cui, come dire, l'apparato produttivo marchigiano in modo particolare è interessato. Mi pare che le iniziative che vengono presentate questa sera preludano all'organizzazione di attività economiche con un margine realistico di realizzazione di successo. Federico Barbieri per Fiduciaria Marche all'appuntamento tradizionale ormai delle borse di studio per l'Istau, questa volta premiati dei giovani, è un importante sostegno al futuro? Sì, siamo molto felici come ogni anno di essere qua a consegnare questa borsa di studio, in particolar modo è un piacere personale essere qui oggi in rappresentanza di Fiduciaria Marche. È una borsa di studio ovviamente per i giovani, la Fiduciaria Marche crede molto nei giovani, crediamo che sia il futuro di questo paese, ma crediamo soprattutto in questo momento dove si parla molto di crisi e ovviamente si vive molto la crisi che i giovani debbano avere delle opportunità e possano averle. I giovani sono un po' come i bambini, i bambini hanno la purezza, i giovani devono avere un po' di voglia di fare e non devono essere mai sfiduciati perché comunque di opportunità il mondo ne presenta sempre tante. L'importante è essere preparati ed avere anche le giuste opportunità. la Fiduciaria con questo gesto ogni anno dà il suo piccolo contributo affinché un giovane si possa preparare e diciamo il nostro augurio è anche quello che possa raggiungere gli obiettivi qualsiasi sia la sua attività lavorativa futura. Grazie mille intanto alla Fiduciaria per la borsa di studio, è stato molto interessante fare questo lavoro sulla ricerca marchigiana perché non solo mi ha permesso comunque di conoscere meglio la mia regione e di sapere un pochino le dinamiche dell'ultimo periodo appunto della crisi che ha investito il nostro territorio ma anche e soprattutto perché ho stretto dei rapporti un pochino più intensi con quelli che erano i miei compagni di corso e sono riuscito finalmente a mettere in pratica tutte quelle che erano le conoscenze che ho appreso all'università e che non avevo avuto l'occasione appunto di mettere in pratica prima. Quindi è stato un approccio più pratico rispetto a quello che ero abituato a fare magari all'università è stato parecchio interessante. Nelle conclusioni di una relazione importante sono state anche tracciate alcune ipotesi interessanti di sviluppo per la regione Marche? Sì, effettivamente abbiamo potuto vedere che il modello dei distretti industriali che è quello proprio che caratterizza gran parte dei sistemi produttivi in particolar modo quello della regione Marche sta tenendo testa a quelli che sono i nuovi contesti, il nuovo panorama internazionale competitivo. E effettivamente lo sta facendo puntando su due leve che sono quello della terziarizzazione e quindi sta puntando sullo sviluppo di servizi più qualificati alle imprese e dall'altra parte sull'innovazione tecnologica che risulta essere sempre più importante per poter riadattare le singole parti dei distretti industriali a quelle che sono appunto le diverse esigenze che il mondo competitivo internazionale sta richiedendo attualmente. Grazie 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 Grazie